Buongiorno a tutti, mi chiamo Giuseppe Italiano, è veramente un grande piacere essere qui con voi in questa piazza virtuale, grazie anche alle tecnologie digitali che ci consentono di stare insieme in momenti particolari come questo. Ringrazio anche gli organizzatori che mi hanno invitato in questa bellissima manifestazione. Vi parlerò di intelligenza artificiale nelle nostre vite, vi farà una presentazione e cercherò di darvi degli stimoli e sarei felice di accogliere le vostre domande alla fine della mia presentazione. Allora, fatemi condividere la presentazione e adesso dovreste vederla. Noi viviamo in una società che è sempre più basata sui dati. Guardate, queste sono il valore in capitalizzazione di mercato delle società quotate in borsa, sono le aziende più importanti in questo momento. Questi sono i vari trimestri del 2020, quindi hanno attraversato anche un momento difficile della pandemia. Che cosa possiamo vedere da questi dati sulle aziende più importanti? Beh, le prime sette aziende più importanti al mondo per capitalizzazione di mercato sono tutte aziende digitali, sono tutte aziende che lavorano con i dati e le conosciamo benissimo. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, forse non tutti sanno che è la parent company di Google, quindi diciamo come se fosse Google, Alibaba, che è cinese, Facebook, che conosciamo tutti, Tencent, che è un'altra azienda cinese, che forse non conosciamo, però forse conosciamo WeChat. Tencent fa varie cose, tra cui WeChat. È impressionante rendersi conto che oggi le aziende più importanti del mercato lavorano con dati e soprattutto lavorano con algoritmi che riescono a dare un significato ai dati. Dei dati ce ne siamo resi conti, conto anche durante in questa epoca un po' particolare della pandemia da coronavirus, vero? Perché abbiamo scoperto che i dati sono importanti, abbiamo scoperto che è importante misurare con i dati determinate cose, è importante sapere quanti contagiati abbiamo, quanti tamponi stiamo effettuando, quante persone abbiamo ricoverate, quante di queste sono in terapia intensiva. In base a questi dati ogni governo, ogni paese sta prendendo delle decisioni, quindi sta cercando di capire qual è il, cosa sta succedendo al presente e anche sta cercando di capire che cosa può succedere nel futuro, per dire a cosa può succedere nel futuro e capire che se noi prendiamo delle misure, queste misure possono avere un impatto su quello che potrebbe succedere. Un'altra caratteristica dei tempi che noi viviamo è la velocità impressionante di queste trasformazioni digitali che stiamo vivendo. Pensate, questi sono dei dati su quanti anni hanno impiegato determinate tecnologie a raggiungere 50 milioni di utenti. Gli aeroplani ci hanno impiegato 68 anni, le automobili 62, il telefono, quello fisso, quello che non usiamo più, che quasi non conosciamo più, 50 anni. Man mano, come potete vedere, questi tempi si sono ridotti e poi sono arrivate le reti sociali, per esempio Twitter ci hanno impiegato tre anni, Facebook due anni, Instagram un anno e mezzo, TikTok sei mesi. Se voi siete curiosi, non sono però queste le tecnologie che si sono affermate più velocemente, se noi usiamo la parola tecnologia con un po' di flessibilità, la tecnologia che è stata più veloce, che ha raggiunto 50 milioni di utenti più velocemente è stata Pokémon Go. Vi ricordate? Credo due stati fa, ha raggiunto 50 milioni di download in 19 giorni. Beh, che cosa significa tutto questo? Significa che le tecnologie oggi non ci danno il tempo per abituarci alla loro profonda eruzione nelle nostre vite. Pensate, con le automobili abbiamo avuto 60 anni, più di 60 anni di tempo, per capire cosa significa questa tecnologia. Abbiamo scoperto che è una tecnologia che ha degli effetti positivi, perché consente trasporti molto più facili. È una tecnologia che ha anche dei problemi, vero? Perché ci possono essere degli incidenti gravi, anche incidenti mortali. Quindi abbiamo cercato di regolare questa tecnologia. Non tutti possono guidare l'automobile. Bisogna prendere una patente, bisogna avere una certa età e abbiamo anche cambiato il mondo e l'ambiente che ci circonda, perché abbiamo asfaltato le strade per fare in modo che le automobili potessero viaggiare meglio. Abbiamo avuto tanto tempo per fare questi cambiamenti. Se una tecnologia arriva in sei mesi e si afferma così velocemente in sei mesi, forse non abbiamo neanche il tempo di capire cosa sta succedendo. Questa è una delle grandi sfide che noi ci troviamo ad affrontarci oggi. C'era Greenwood, un imprenditore australiano, che ha detto una frase che mi colpisce sempre. Questa frase dice il cambiamento non è mai stato così veloce. E c'è la seconda parte di questa frase che mi colpisce sempre di più, perché dice non sarà mai così lento nel futuro. Questo cambiamento estremamente veloce è qualcosa a cui noi come esseri umani dobbiamo abituarci. E ci rendiamo conto, perché le macchine o gli algoritmi fanno cose sempre più intelligenti, eseguono dei compiti sempre più complicati che prima noi non pensavamo fossero possibili. Pensate adesso ci sono delle autoveicoli a guida autonoma e prima non si pensava che questa cosa fosse possibile. Algoritmi hanno battuto campioni di scatti, campioni di go, che è un gioco complicatissimo, e prima non si pensava che questa cosa potesse essere possibile. Molti pensano che questo aspetto delle nostre tecnologie digitali sia particolarmente drammatico e che prima o poi arriverà un'apocalipse dei robot e che i robot conquisteranno il mondo, un po' come succede con Terminator. Io credo che macchine e algoritmi diventeranno sempre più importanti, ma non credo che sia Terminator che succederà nelle nostre vite. Pensate, in Cina ci sono tre porti, ci sono già tre porti che sono completamente automatizzati. Non c'è nessun essere umano che lavora in questi porti. Chiaramente c'è tutta una tecnologia dietro, c'è una tecnologia su algoritmi intelligenti, c'è una comunicazione veloce basata su reti 5G, ma questi porti riescono ad essere molto più efficienti dei porti normali, quindi dare un vantaggio competitivo alle nazioni che riescono ad ospitarli. Volevo farvi alcuni esempi di intelligenza artificiale senza arrivare a casi così ecletanti, come quello dei porti cinesi completamente automatizzati, entrando nelle nostre vite. Un primo esempio molto semplice è nei nostri telefoni. Noi sblocchiamo il nostro telefono tramite riconoscimento facciale. Questo avviene tramite delle tecniche di intelligenza artificiale. l'algoritmo basato su machine learning legge il nostro viso, delle caratteristiche salienti del nostro viso mentre stiamo facendo addestramento e questo lo facciamo facendoci inquadrare poche volte e poi da allora in poi siamo perfettamente capace di riconoscere il nostro viso in condizioni di luminosità molto diverse, in ambienti molto diversi e con un'accuratezza incredibile. Pensate ai filtri di Snapchat, credo che molti di voi conoscano Snapchat. Anche questo è impressionante, diciamo prendi questa mia foto e mettimi queste orecchie da cane o questo muso da cane o questa lingua. Come fa Snapchat a fare questo? Tipicamente ha un suo modello diviso che fa corrispondere con vari punti al nostro viso. Quindi quando gli diciamo mettimi il naso da cane, lui prende i punti del naso nel suo modello diviso e fa questa trasformazione direttamente sul nostro viso con un'accuratezza impressionante. Pensate a Facebook o altre reti sociali. Appena qualcuno posta una foto che contiene il nostro volto, Facebook ci dice questa persona ha postato una foto di te, ti vuoi taggare. Oppure se noi postiamo una foto ci dice vuoi taggare questi tuoi amici, li riconosce. Questo è impressionante perché riconoscere i volti è un problema molto difficile, qualcosa che prima non si credeva possibile. Pensate, gli algoritmi di riconoscimento dei volti oggi hanno delle precisioni, delle accuratezze che sono confrontabili e in alcuni casi anche superiori a quelli degli esseri umani. E lo usiamo dappertutto, ad esempio negli aeroporti, anche a Roma. Se io vengo da una destinazione fuori da Schengen, oggi devo passare un tornello, metto il mio passaporto, il passaporto viene detto e poi una telecamera mi inquadra e cerca di capire se il video, la faccia che sta inquadrando, è la stessa faccia che c'è nel passaporto. Anche questo è qualcosa che fino a ieri sembrava sorprendente, che ha semplificato e ha reso molto più veloci e molto più economici molti processi. Abbiamo intelligenza artificiale dentro casa negli smart assistant. Se avete un iPhone, avete Siri. Probabilmente avete altri smart assistant come Alexa di Amazon o Google Assistant. Io ne ho un paio a casa, i miei figli adorano questi assistenti digitali, anche se, diciamo, ovviamente questo può creare dei problemi sulla nostra privacy. E a volte mi diverto a fare questo gioco del tipo dico a Siri leggimi la nota di oggi. Prima a Siri avevo detto metti una nota di questo tipo. Allora Siri mi dice ho trovato questa nota, la tua nota di oggi dice Alexa che appuntamento ho alle 3. Allora si sveglia Alexa e prima aveva detto Alexa di un appuntamento. Allora Alexa dice ecco il tuo appuntamento alle 3. Ok Google cosa c'è nel calendario alle 4. Allora si sveglia anche il Google Assistant a cui ho messo prima un evento in calendario e mi dice c'è un evento alle 4, il titolo è Siri leggi la nota di oggi. E questa cosa va in loop in maniera incredibile. Diciamo la prima volta che sono riuscito a fare una cosa del genere. I miei figli, soprattutto mio figlio piccolo era felicissimo come ho acquistato un minimo di autorità paterna nei suoi confronti. E' però impressionante come questi smart assistant riescono a capire il nostro linguaggio, non solo a riconoscere il parlato ma anche a capire il senso di quello che noi diciamo. Poi abbiamo vari strumenti della domotica come aspirapolveri completamente automatizzati che lavorano anche loro con intelligenza artificiale. Man mano che esplorano la nostra casa si fanno una mappa molto precisa della nostra casa, capiscono dove devono fermarsi, per esempio sui tappeti che hanno dei peli molto lunghi, attivare alcune funzionalità e questo se ci pensate oramai siamo abituati ma è qualcosa di estremamente impressionante. Guardate questo video di un cane robot che cerca di aprire una porta tra mille ostacoli. c'è un essere umano che l'ostacola di continuo, cerca di fare in modo che non abbia successo nell'aprire questa porta e vedete è impressionante quello che il cane robot riesce a fare, come riesce a reagire in mezzo a tutti questi ostacoli. Vedete adesso ha messo una gamba sulla porta per cercare di bloccare l'essere umano che la voleva chiudere. Adesso l'essere umano lo tira indietro tra l'altro facendo cascare un pezzo del cane robot ma il cane robot continua nel suo obiettivo che è quello di aprire la porta finché non ci riesce. Pensate questo è qualcosa di estremamente complicato, per noi esseri umani è semplicissimo, no? Però pensate che cosa richiede a una macchina, a un robot di fare esattamente questi compiti. Ecco, alla fine il robot è riuscito e allegramente riesce ad andare nell'altra stanza. Abbiamo intelligenza artificiale, algoritmo di intelligenza artificiale dappertutto oramai. Spotify riesce a dirci quali sono la musica che ci piace, noi sentiamo un po' di musica e poi in maniera incredibile riesce a darci dei suggerimenti. Netflix fa la stessa cosa con i film e questi loro sistemi di raccomandazione sono proprio alla base del loro successo, sono proprio alla base del loro business, no? Perché queste raccomandazioni sono raccomandazioni molto precise. Come fanno a capire queste cose? Beh, clusterizzano i loro utenti secondo determinate caratteristiche e poi cercano di giocare sulla similarità tra utenti e similarità tra i prodotti che loro stanno cercando di vendere. YouTube fa la stessa cosa con i video, Amazon fa la stessa cosa con i suoi prodotti. Dice se tu hai acquistato questa cosa potrei essere interessato a quest'altra cosa. Abbiamo chatbots dappertutto. Se voi interagite con un'azienda, con la parte per esempio commerciale di questa azienda, tipicamente vi sembrerà di parlare al telefono o a chattare al computer con un essere umano, ma non è così. Il primo approccio viene attraverso un algoritmo, attraverso una chatbot, che ha delle caratteristiche incredibili. Sembra molto difficile oggi riuscire a distinguerla da un essere umano e addirittura molte aziende, ad esempio Facebook in questo esempio, sta pensando di dotare la propria chatbot di empatia artificiale perché si è reso conto che è molto importante riuscire a comunicare con empatia e forse anche perché noi esseri umani nel tempo la stiamo perdendo questa empatia e forse anche questo può aiutarci anche a noi esseri umani ad essere più empatici. Che cosa si può fare con l'intelligenza artificiale? Vi do alcuni spunti, potrebbero essere veramente tantissimi e ne ho presi soltanto alcuni. Per esempio oggi gli avvocati usano tipicamente anche loro tecnologie digitali e intelligenza artificiale. Pensate, si riesce a esaminare documenti legali, come per esempio accordi di non divulgazione, in maniera molto precisa, quindi questo lo possono fare degli algoritmi, lo possono fare con la stessa precisione degli esseri umani e riescono quindi a dire guarda c'è questa parte di questo documento legale che non va bene, forse è meglio se la rimpiazzi con quest'altra parte o questa clausola forse andrebbe modificata in questo modo. Che significa? Che gli avvocati smetteranno di fare la loro professione? No, probabilmente significa che gli avvocati potranno delegare questi compiti così banali e così automatici a un algoritmo e loro potranno fare qualcosa di molto più interessante. Guardate questo quadro. Non è molto carino, vero? Insomma è anche brutto. Beh, Christie ha cercato di venderlo all'asta per una cifra che stimava al massimo potesse essere 10.000 dollari. Invece sapete per quanto lo ha venduto all'asta? Lo ha venduto per 432.500 dollari. Quindi diciamo più di 40 volte il prezzo che aveva stimato, che era già un prezzo ottimistico. Cos'ha questo quadro perché debba valere così tanto? Vi ho evidenziato la firma del pittore che ha fatto questo quadro e se lo vedete da vicino è una firma un po' strana, è una funzione matematica. Questo quadro è stato fatto da un algoritmo di machine learning, da un algoritmo di intelligenza artificiale. È stato fatto da una rete neurale, una particolare rete neurale che si chiama Generative Adversarial Network, che in realtà sono due reti neurali che lavorano insieme per migliorare ciò che fanno. Sono state addestrate con una quantità incredibile di ritratti tra il XIV e il XIX secolo. Infatti se vedete non c'è uno stile particolare, è un mix di vari stili di questo quadro dipinto da un'intelligenza artificiale. Quindi c'è un generatore, una rete artificiale, una rete neurale artificiale che è un generatore, e una rete neurale artificiale che è un discriminatore. Vedete qui ci sono delle G o delle D che sono appunto quello che cerca di fare il generatore e quello che cerca di fare il discriminatore. In maniera semplificata potremmo dire il generatore è come se fosse un falsario di quadri. Cerca di fare dei quadri falsi, di falsificare dei quadri dicendo questo quadro l'ha fatto Raffaello, per esempio. Il discriminatore è come se fosse un esperto d'arte che guarda il quadro fatto dal falsario e dice no, questo quadro non lo ha potuto fare Raffaello, perché Raffaello dipingeva con questo stile. Allora il falsario produce un quadro ancora migliore, allora il discriminatore, l'esperto d'arte diventa ancora più esperto nel trovare le cose che non vanno, e dopo milioni, dopo miliardi di round che gli algoritmi oggi riescono a fare in poche ore, in pochi giorni, diventano tutti molto più bravi e riescono a produrre quadri di questo tipo. Chi ha prodotto questi quadri è un trio di esperti di arte francese e ne ha prodotti vari altri. li ha chiamati la famiglia di Bellamy, perché questa tecnica generative adversarial network è stata inventata da un americano che si chiama Goodfellow e quindi loro in francese, siccome questo trio di artisti era francese, lo ha tradotto con Bellamy, che è la traduzione di Goodfellow. La cosa impressionante, almeno secondo me, è che per fare questa cosa, quindi per produrre le opere d'arte che hanno avuto quotazioni così alte sul mercato hanno preso il codice generato su generative adversarial network da un ragazzo che aveva più o meno la vostra età. Robby Barats, un americano, che aveva scritto del codice per fare una generative adversarial network, l'aveva messo su un dominio pubblico su GitHub e aveva 19 anni all'epoca. Pensate, questi quadri che hanno avuto un impatto così incredibile ai nostri vite sono partite da del codice scritto da un ragazzo 19 anni. E chiaramente se voi fate, addestrate la vostra rete neurale su periodi molto più specifici, molto più stretti, allora riesce a fare opere d'arte, chiamiamole così, o dipinti esattamente di quell'epoca. Guardate ad esempio questi quadri. Guardate queste foto, queste sono sempre generate con queste generative adversarial networks. Beh, qualcuna di queste foto non è una foto, è una foto completamente inventata da un algoritmo di machine learning tramite queste generative adversarial networks. Guardatele un secondo e poi ci fermeremo alla fine e cercheremo di riflettere quali sono le foto che corrispondono a persone vere e quali sono le foto che corrispondono a persone completamente inventate da un algoritmo. Questo è meraviglioso se ci pensate. Ci fa pensare però, perché io posso generare dei falsi, io posso generare quello che si chiamano deepfakes, posso addirittura generare dei video in cui posso mettere in bocca delle persone, anche importanti, delle cose che non hanno mai detto. Beh, pensate, questo pone dei problemi assolutamente non banali. Questo è invece un testo scritto da un algoritmo. C'è un nuovo generatore di linguaggi, si chiama GPT-3, ne avete probabilmente sentito parlare. È un generatore molto potente, gli possiamo dare dei dati e genera dei testi che sono impressionanti. Questo è per esempio un testo che è stato generato da GPT-3 e se lo leggete è veramente impressionante perché sembra che questo algoritmo, questa macchina, stia facendo delle riflessioni tipiche di noi esseri umani. In realtà non è così questo algoritmo, questa macchina ha semplicemente imparato, facendo training su miliardi di testi, su milioni di miliardi di testi, cosa c'è in un testo scritto. Quindi non è in grado di pensare, però è in grado di riprodurre dei testi scritti che abbiano un senso compiuto. E ci sono varie cose che sono state scritte da GPT-3 e vi incoraggio a guardarle sul web. C'è un'altra cosa che è stata anche questa notevole. Sapete cosa sono i debate? Sono delle gare, credo si chiamano debate anche in italiano, in cui sono due contendenti. 15 minuti prima della gara dicono al contendente A, devi sostenere questa ipotesi. Dicono al contendente P, devi sostenere il contrario di questa posizione. E li fanno discutere in vari round, loro hanno 15 di tempo per prepararsi a quell'argomento che era completamente ignoto e per cercare di convincere il pubblico delle loro ragioni. E poi alla fine di questi tre round c'è una giuria che decide chi è il vincitore. Probabilmente anche nelle vostre scuole forse avrete fatto qualche debate di questo tipo. La cosa impressionante è che l'anno scorso IBM ha costruito una macchina, che è questo oggetto nero che vedete qui, che si chiama Project Debater, che è in grado di esercitare il ruolo di debater. C'è un video su YouTube, è molto lungo, però se cercate su YouTube Project Debater lo trovate, vi esorto ad ascoltarlo. È impressionante come questa macchina riesce a ragionare e argomentare. Ancora una volta non sta pensando come un essere umano, solo ha imparato un training molto, molto lungo a trovare informazioni e a generarsi su certi argomenti. Quali sono le sfide che ci attendono oggi? Perché la tecnologia sta effettivamente entrando in maniera dirompente nelle nostre vite, come ci rendiamo conto. Una delle sfide più importanti è che purtroppo molti di questi algoritmi, che funzionano molto bene, non sono interpretabili, non sono spiegabili. Sono talmente complicati, costruiscono un loro modello che è molto diverso da come ragioniamo noi esseri umani e poi riescono a eseguire dei compiti con una precisione incredibile. Tanto per fare un esempio, io dico sempre, in effetti abbiamo già da decine di anni l'automazione o robot all'interno della nostra casa. La lavastoviglie, per esempio, esegue un compito molto semplice, però è un compito che prima facciamo gli esseri umani. Beh, la lavastoviglie però lava i piatti in maniera molto diversa da come li lavo io, non è che sta seguendo il mio modo di lavare i piatti. E perché succedono delle cose all'interno della lavastoviglie mentre sta lavando i piatti non è così facilissimo da capire. Sicuramente avete sentito parlare anche di questa cosa. Qualche settimana fa ci hanno detto che all'aeroporto di Helsinki utilizzavano i cani per trovare chi era positivo al coronavirus tra i passeggeri. I cani annusavano le persone, i passeggeri, o annusavano qualcosa che era stato strofinato sulla pelle delle persone e con una precisione incredibile, ci dicono dall'aeroporto di Helsinki, erano in grado di capire che era positivo al coronavirus. Se ci pensate, questo è un metodo molto più veloce del tampone, vero? Perché per fare il tampone devo fare un test, devo avere un personale specializzato, devo avere del materiale, devo aspettare del tempo e chiaramente ha dei costi molto più elevati. Il cane è molto più economico, è molto più veloce e funziona molto bene, addirittura ha della precisione molto più elevata dei tamponi, perché sapete anche i tamponi sono affetti da errori, da falsi positivi o da falsi negativi. Quindi è un metodo che funziona benissimo. Come fanno i cani a fare questa cosa? È difficile da capire, un po' come algoritmi machine learning. Come fanno a riconoscere un volto? È difficilissimo da capire, perché l'hanno riconosciuto. Ma è difficilissimo anche per me, essere umano, capire perché ho riconosciuto un volto oppure no. E quindi, diciamo, li utilizziamo perché è un metodo molto economico, molto veloce e molto efficiente, ma non è spiegabile, non so perché il cane ha riconosciuto o non ha riconosciuto un contagiato da coronavirus. Il suo olfatto è completamente diverso da quello di un essere umano, no? Quindi, diciamo, una delle sfide principali che noi abbiamo oggi è che molti di questi algoritmi non sono trasparenti. Non è chiaro cosa c'è dentro, un po' come i cani dell'aeroporto di Helsinki, no? Funzionano ma non sappiamo perché. Sono quello che si chiama una scatola nera, una black box. Non sono interpretabili. Non è assolutamente chiaro perché hanno raggiunto una certa decisione. Come i cani di Helsinki, non è chiaro perché ti dicono che quella persona, magari abbagliando o scodinzolando, è positiva oppure no. L'altro aspetto che abbiamo toccato in vari punti è che questi algoritmi, per funzionare bene, hanno bisogno di una quantità di dati notevoli, hanno bisogno di fare training su milioni, su miliardi di dati per riuscire ad imparare un compito, ad eseguire un compito. E questi dati chiaramente non sono dati del futuro perché ancora non siamo nel futuro. Non sono dati del presente perché non abbiamo ancora raccolto questa quantità enorme di dati del presente. Quindi inevitabilmente sono dati del passato, no? Se voglio far capire a un algoritmo come si scrive un testo, gli devo dare miliardi di testi che sono stati scritti da 50 anni a questa parte. E chiaramente il rischio grosso è che questo si porti appresso pregiudizi che noi e che la nostra società aveva nel passato. E che forse oggi non ci sono più, ma quindi rischiamo di farli rivivere all'interno di questi algoritmi. Quindi finché si tratta di vedere chi è positivo al coronavirus, probabilmente posso accettare che la decisione venga presa in maniera non trasparente, non interpretabile, con un cane che abbaglia. Ma man mano che faccio prendere decisioni molto più importanti, che hanno un'influenza profonda nella nostra vita con questi metodi, beh, forse qualche domanda me la dovrei cominciare a fare. Se io, per esempio, ho algoritmi che sono alla guida di veicoli a guida autonoma, perché è quello che sta succedendo, beh, anche questo pone dei problemi non banali in caso di azioni che possano evitare incidenti. Se io uso algoritmi per decidere chi viene ammesso all'università, perché la mia università riceve un numero incredibile di application, come succede alle università americane, e non posso elaborarle velocemente con un essere umano, beh, questo ha un effetto non banale. Se una banca decide a chi garantire dei prestiti con un algoritmo, beh, questo forse ci dovrebbe far riflettere. Se un giudice prende una decisione in base a degli algoritmi, beh, anche questo forse dovrebbe farci pensare. Perché non è chiaro qual è la logica in questa presa a questa decisione, non è chiaro se la decisione è fetta da pregiudizi. E quello che noi ci aspettiamo è che gli algoritmi possano essere imparziali. Siano chiamati a rendere conto delle loro scelte, siano trasparenti, si sappia perché hanno fatto delle scelte. E oggi questo è complicatissimo, è impossibile. Noi tra l'altro ci aspettiamo che gli algoritmi o le macchine siano perfette. Non c'è niente di più falso, non c'è niente di più lontano dal vero. Noi, a mio modesto avviso, dobbiamo anche pensare come gestire gli errori degli algoritmi, perché anche gli algoritmi compiono errori. O far gestire anche dei metodi automatici a degli altri algoritmi degli errori degli algoritmi. Però tipicamente oggi non pensiamo ancora a queste cose. Vi faccio un altro esempio. Questo è un esempio di quanto siano complicati gli algoritmi e quanto sia complicato capire perché si prendono decisioni. Qualche settimana fa qualcuno, prima delle lezioni americane, ha fatto questo esperimento su Twitter, che è un social network, come sapete. Ha mandato quattro foto, due di Mitch McConnell, che è un senatore repubblicano, e due di Barack Obama. Twitter, come molti social, ha un suo algoritmo che decide quali foto hanno la prevalenza. Non può mostrare quattro foto, perché ha uno spazio molto limitato, ne deve mostrare solo due. Allora, questa persona ha fatto questo test, ha mandato nello stesso tweet quattro foto di Mitch McConnell, il senatore repubblicano bianco, e di Barack Obama, ex presidente americano, afroamericano. E quello che è successo è che Twitter ha scelto le due foto del senatore repubblicano bianco. E quindi sono cominciate varie discussioni e varie tentative di mostrare che, in fin dei conti, l'algoritmo di Twitter era caratterizzato da un pregiudizio verso la popolazione americana, afroamericana, perché con due foto di un bianco e di un afroamericano sceglieva poi le foto del bianco. È difficile capire cosa effettivamente faccia l'algoritmo di Twitter, perché è complicatissimo. Però quello che è successo è che, interrogato come una scatola nera, alla fine si è capito che l'algoritmo cercava di privilegiare foto che avevano un alto contrasto, perché gli esseri umani sono più catturati da foto che hanno un contrasto più elevato. Quindi, per esempio, mandando le due foto di Mitch McConnell e queste due foto di Barack Obama, con un sorriso e quindi con un contrasto, prevalevano queste due foto di Barack Obama. Questo per reti che molto spesso è anche difficile capire cosa sta facendo l'algoritmo, perché lo sta facendo. L'unica cosa che noi possiamo fare è interrogarlo dal di fuori, dal di fuori di questa scatola nera, e vedere come reagisce agli stimoli, ma questo è veramente complicatissimo. Ci sono dei casi in cui gli algoritmi hanno avuto dei fallimenti molto preoccupanti. Ad esempio, c'è un algoritmo che è stato utilizzato per decidere l'indice di pericolosità di persone in stato di detenzione. Vernor Prater era un detenuto bianco e questo algoritmo gli ha dato un indice di pericolosità molto bassa, 3. Brescia Borden era afroamericana, tra l'altro era stata accusata, rubata una bici. Lei doveva andare a scuola, prende la sorrellina piccola, era in ritardo, ha trovato per strada una bici che non aveva lucchetti, quindi l'ha presa per arrivare prima ed è stata arrestata e messa in carcere. Brescia Borden è stata valutata come un detenuto molto pericoloso. Uscendo dal carcere, Vernor Prater, detenuto bianco, ha avuto altri notevoli episodi di criminalità, mentre Brescia Borden è tornata a una vita normale e si è comportata molto bene. Quindi, diciamo, l'idea è quello che forse questo software, questo algoritmo, che forse aveva fatto del training su dati storici, soffriva di pregiudizi verso la popolazione afroamericana, perché forse 50 anni fa c'era molto più razzismo verso la popolazione afroamericana di quanto ce ne sia adesso. Non so se questo è vero. Vi faccio un altro esempio. Non pensiamo che il coronavirus sia razzista e che discrimini rispetto all'etnea della popolazione o altre cose. Però, se guardiamo, ad esempio, i primi 100 casi di Covid a Chicago, 70 su 100 erano afroamericani. Tra l'altro non erano persone che venivano da famiglie particolarmente povere, anzi, erano famiglie discretamente ricche, in alcuni casi molto ricche. E questo forse ci fa pensare del fatto che il virus non dovrebbe discriminare rispetto a certi parametri, però forse la nostra assistenza ospedaliera, la nostra sanità, soprattutto la sanità negli Stati Uniti, ha ancora queste discriminazioni. Quindi, forse gli algoritmi non stanno semplicemente facendo rivivere dei pregiudizi del passato, ma stanno anche riflettendo dei pregiudizi della nostra società di oggi. Sappiamo tutti quello che è successo poche settimane fa negli Stati Uniti e quello che ha generato nel movimento Black Lives Matter, il modo in cui la polizia americana ha trattato degli afroamericani. Questo è un altro esempio. Molte aziende molto grandi tipicamente fanno recruiting senza farlo fare da esseri umani, perché ricevono un numero di application incredibili. Quindi cercano di fare recruiting facendo selezionare le persone da assumere in base a degli algoritmi. E chiaramente se questi algoritmi sono stati addestrati su dati del passato, perché sono gli unici dati disponibili, forse sono degli algoritmi che discriminano le donne dagli uomini, perché quante donne lavoravano nelle aziende 50 anni fa o ricoprivano posizioni apicali nelle aziende 50 anni fa. E quindi si è scoperto, per esempio, che Amazon aveva un algoritmo di recruiting che aveva dei forti pregiudizi verso le donne, perché se io voglio assumere persone che poi avranno successo nella mia azienda e misuro questo successo in base a come hanno scalato i vertici della mia organizzazione, beh, devo usare delle serie storiche, appunto 50 anni fa, 40 anni fa, 30 anni fa, non c'erano donne ai vertici delle aziende, quindi l'algoritmo cerca di impara anche da dati che hanno questo pregiudizio. Sappiamo quello che succede in Cina, no? C'è un continuo controllo, anche in base al riconoscimento facciale, su cosa fanno le persone e c'è un punteggio che viene dato a ogni persona o ai suoi comportamenti anche digitali. E questo diciamo a noi europei che abbiamo un certo sentimento della privacy ci fa un pochino inorridire. Però pensate che il riconoscimento facciale a volte avrebbe salvato delle vite umane, per esempio questo è un fotogramma di un video che ritrae tre attentatori dell'aeroporto che stava facendo in Bruxelles qualche anno fa. Erano persone note, quindi con il riconoscimento facciale avremmo potuto fermarli perché erano dei terroristi. Alcuni di loro avevano addirittura un guanto su una mano, probabilmente avevano nascosto un detonatore, quindi se ci fosse stato un riconoscimento facciale online si sarebbero potuti fermare e molte vittime potevano essere evitate. Questo è un altro caso molto interessante di un businessman di Hong Kong che a un certo punto ha investito molto dei suoi asset, 20 milioni di dollari, in un algoritmo, in un robo-advisor, cioè un algoritmo che fa raccomandazioni su dove investire i propri soldi. E a un certo punto questo investimento è stato veramente fallimentare per cui ha perso i suoi soldi, quindi si è rifiutato di pagare la sua fee a questo robo-advisor, il proprietario di questo robo-advisor gli ha fatto causa perché ha detto tu avevi un contratto che ti impegnavi a pagare questa fee per i miei servizi, e il miliardario di Hong Kong ha fatto causa all'algoritmo. Questo è il primo caso a mia conoscenza di una causa verso un algoritmo. La causa si sarebbe dovuta tenere a Londra perché questa società robo-advisor, anche se è stata fondata da un italiano, ha sede a Londra e si sarebbe dovuta svolgere aprile 2020 ma poi è stata diciamo posticipata a causa del coronavirus. Beh, sarebbe diciamo che penso sia molto interessante capire anche come si muoverà la giustizia in questo caso, se gli algoritmi debbano essere chiamati a rispondere dei loro errori o chi deve essere chiamato a rispondere. Cercando di concludere così da lasciare un po' di spazio alle vostre domande, io credo che la tecnologia digitale non è né buona né cattiva. Come tutte le altre tecnologie hanno avuto delle resistenze all'inizio, ricordiamo i luddisti che andavano a distruggere le macchine, i tealai automatici perché pensavano che fossero il male e gli togliessero il lavoro o tante altre cose del genere, però dobbiamo renderci conto che non è neanche neutrale e questo è qualcosa che deve farci pensare, cioè può essere usato sia a scopi positivi che a scopi negativi, ma questa qualsiasi tecnologia, le automobili sono positive perché hanno introdotto un miglioramento incredibile nella vita e nell'economia del genere umano, però hanno anche degli effetti negativi che dobbiamo capire come limitare, no? L'altra cosa importante è che qualsiasi lavoro noi faremo domani non possiamo concederci il lusso di ignorare le tecnologie digitali. Quando io avevo la vostra età mi ripetevano sempre qualsiasi cosa vuoi fare nella vita devi assolutamente sapere l'inglese perché altrimenti non vai da nessuna parte. Quello che mi sento dire oggi è assolutamente devi sapere l'inglese però devi sapere anche le tecnologie digitali, devi sapere di informatica, devi sapere di algoritmi, devi sapere di intelligenza artificiale perché qualsiasi cosa vuoi fare domani sarà condizionata pesantemente da questa tecnologia e con molta probabilità andrete a fare un lavoro che è molto diverso da quello che si fa oggi andrete a fare addirittura un lavoro che non esiste ancora si stima che gran parte delle persone che adesso stanno facendo le scuole alimentari farà un lavoro che non esiste ancora ma che esisterà grazie alle tecnologie digitali quindi non possiamo permetterci il lusso di essere totalmente digiuni su queste tecnologie e se voi siete interessati vi posso anticipare che quello di cui abbiamo parlato oggi e alcune attività in questa direzione saranno approfondite grazie all'orientamento della LUIS e l'altra cosa importante e dobbiamo renderci conto che il confine tra ciò che fanno le macchine ciò che fanno gli algoritmi e ciò che facciamo noi esseri umani si sta spostando sempre più sta cambiando molto più velocemente questo non significa a mio modesto avviso che le macchine i robot e gli algoritmi prenderanno il sopravvento significa semplicemente che dobbiamo avere un nuovo rapporto tra esseri umani e tra algoritmi con una diversa distribuzione dei ruoli e di questo dobbiamo essere perfettamente coscienti perché se noi non sappiamo come funzionano gli algoritmi possiamo fare degli errori anche molto gravi nel nostro futuro volevo appunto io credo quello che rischiamo non è che noi saremo rimpiazzati nel nostro lavoro da robot algoritmi ma saremo rimpiazzati da qualcuno che comprende i robot e gli algoritmi quindi dobbiamo essere noi quelli che comprendono le roba e gli algoritmi e fatemi concludere ritornando ai nostri volti fatemi dare dei numeri uno questo volto due questo volto tre quest'altro in basso a sinistra e quattro quanti credono che sia uno il volto la faccia riprodotta da un algoritmo potete potete magari dare feedback nelle chat o qualche altra cosa non so che cosa ne pensate di questo e non so allora Valentina mi dice che qualcuno ha detto la foto quattro la foto quattro in effetti è scusate riparto con la condivisione se volete così la vediamo condivido direttamente il mio schermo così adesso dovreste rivedere la foto la foto quattro in effetti si vede gli manca quasi un pezzo no? qua quindi chiaramente non è e poi se guardate bene la foto quattro ha soltanto un pezzo degli occhiali qua gli manca questi occhiali quindi l'algoritmo che l'ha generata che si è fatto il suo modello non è stato così bravo non so se questa cosa vi sconvolge però tutte queste foto sono state generate da un algoritmo da una generative adversarial network e se ci pensate alcune di loro sono veramente sorprendenti non c'è modo di capire che questa sia una foto falsa sia una foto di una persona che non esiste ok io vi ringrazio e già vedo che c'è qualche domanda consigli per immergersi in questo mondo digitale beh come vi ho anticipato noi saremmo felici di approfondire queste attività con voi grazie all'orientamento LUIS quindi se voi siete interessati potete continuare a approfondire e diciamo studiare capire che ne so come funzionano gli algoritmi come funziona machine learning avere un attimo di dimestichezza con coding quindi sapere anche programmare penso che sia importantissimo un'altra domanda è si creano opportunità di lavoro grazie all'intelligenza artificiale sicuramente come dicevamo dei lavori scompariranno magari dei lavori di manovalanza bruta chiamiamola così però molti altri lavori verranno creati io ricordo da piccolo ad esempio c'erano delle professioni che adesso non vedo più negli autobus c'era un essere umano che ti rendeva il biglietto adesso non c'è più almeno a Roma devi comprare il biglietto prima o in alcune città lo puoi comprare direttamente sull'autobus quando ero piccolo c'era lo spazzino che con la mitologica ramazza passava a pulire le strade adesso non lo fa più un essere umano questo compito gli esseri umani fanno via via compiti molto più lasciatemi dire intellettuali non solo molte professioni sono cambiate ma ci sono delle professioni nuove anche oggi che dieci anni fa non c'erano un'altra domanda è se non sono portata con i numeri posso comunque intraprendere questi studi secondo me sì secondo me non serve essere portata con i numeri la cosa importante è bisogna avere una curiosità intellettuale i numeri certo sono importanti perché queste sono discipline quantitative però diciamo essere un genio della matematica non è assolutamente richiesto basta semplicemente capire quello che c'è dietro alcuni fenomeni quindi sicuramente si può intraprendere questo tipo di studi se non si è portati con i numeri basta semplicemente non odiare i numeri se io ho un odio incredibile verso i numeri o verso la matematica beh chiaramente questo potrebbe essere un problema un'altra domanda molto importante secondo me fate degli otteni domande veramente complimenti è stato veramente un grosso piacere un parere sulle tecnologie quantistiche in correlazione con l'intelligenza artificiale cosa potrebbe creare un'unione tra queste due avanguardie beh brevemente tecnologie è un'ottima domanda tecnologie quantistiche porterebbero una rivoluzione incredibile su hardware cioè noi adesso abbiamo tecnologie basate sul silicio microprofessori basati sul silicio che raggiungono certe velocità e hanno certe capacità di elaborazione tecnologie quantistiche fanno calcoli e computing in base a effetti quantistici quindi un computer quantistico sarebbe in grado di fare calcoli molto più potenti e questo è importante perché abbiamo visto che uno dei due ingredienti fondamentali per cui queste tecnologie hanno successo oggi è uno la grande quantità di dati che abbiamo a disposizione oggi che non avevamo ieri pensate ognuno di noi genera 1,7 megabyte di dati al secondo col telefono e con vari altri sensori che non sapendo ci portiamo appresso il secondo ingrediente a parte la quantità di dati che abbiamo è la velocità delle macchine delle CPU cioè il fatto che noi riusciamo ad elaborare in maniera molto veloce una quantità sterminata di dati il mio telefono fa riconoscimento facciale in pochi secondi se lo facesse in tre minuti sarebbe noioso io tre minuti per accendere il mio telefono non lo accetterei quindi le tecnologie quantistiche possono creare una rivoluzione rendendo possibili cose che oggi non sono possibili pensate per esempio gran parte della sicurezza informatica oggi è basato su degli algoritmi si chiamano è una tecnologia che si chiama RSA dal nome dei suoi inventori che su macchine quantistiche non funzionerebbe più quindi diciamo sarebbero in grado di e molte persone stanno pensando a una security a una sicurezza post quantistica quindi pensate che rivoluzione porterebbe anche nell'intelligenza artificiale un'altra domanda la strada di ingegneria informatica è quella per studiare intelligenza artificiale questa è un'ottima domanda allora devo dire io sono un ingegnere di formazione e ho insegnato per vent'anni a ingegneria informatica nonostante questo credo che oggi la cosa importante è avere una preparazione a 360 gradi cioè essere troppo specializzati o troppo specialisti non servono nei vent'anni in cui insegnavo ingegneria informatica mi sono reso conto che noi formavamo delle persone bravissime degli specialisti ma che non erano forse non erano in grado di risolvere molto bene un problema ma non erano molto in grado di capire che problema si poteva risolvere o non erano molto in grado di parlare con altre persone per esempio con chi nelle aziende prende decisioni strategiche credo che sia importante avere competenze multidisciplinari e questo i problemi di oggi sono talmente complicati e talmente complessi che non li può risolvere solo con una disciplina pensate appunto a intelligenza artificiale e giustizia giurisprudenza non è una cosa soltanto da ingegnere informatica pensate alla blockchain tutte le cose che possiamo fare con valute criptografiche di cui avete sentito parlare non è una cosa soltanto da specialisti quindi io credo sia importante avere una preparazione a 360 gradi ad esempio nella mia università abbiamo un bachelor che è in management e computer science che vuole formare persone bilingue nelle tecnologie digitali e nelle discipline economiche credo che questo sia molto importante abbiamo una laurea magistrale in data science e management ancora con lo stesso approccio oggi appunto i problemi sono così complicati che non possono essere affrontati solo con una disciplina abbiamo bisogno di una preparazione a 360 gradi e anche se io sono un ingegnere ho insegnato ingegnere per tanto tempo credo che avere degli approcci da discipline umanistiche con tutte le altre cose possa essere importante quindi la mia risposta non è l'unica quella di ingegnere informatica anzi se riuscite a avere una preparazione più a 360 gradi e a imparare tecnologie mentre imparate anche altre cose è più importante un'altra domanda è potremmo elaborare da noi solo un algoritmo anche se non ne sappiamo molto sì sai gli algoritmi sono sono sempre esistiti no? anche una ricetta di cucina è un algoritmo no? chiaramente se poi voglio programmarla se poi voglio codificarla scrivere il codice devo sapere come si scrive il codice però di per sé l'algoritmo è un modo è un metodo per risolvere un problema ed è importante essere creativi in questa fase trovare l'algoritmo giusto l'algoritmo migliore per risolvere un problema l'altra domanda da dove possiamo cominciare a realizzare le sfide per il futuro concretamente nel vostro piccolo da studenti liceali io credo che non sia il nostro piccolo credo che diciamo la ricchezza di un paese e la ricchezza di una nazione si basa soprattutto sul futuro il futuro è la scuola il futuro è l'università e io credo che sia importante che già dentro di voi portate questa curiosità sul conoscere e su apprendere molte cose e su cercare di capire quali sono i problemi con cui forse vi dovrete scontrare una volta che sarete grandi problemi che forse abbiamo creato noi le persone della mia generazione però molti dei problemi che abbiamo visto oggi credo sono importantissimi ed è importante esserne a conoscenza trasparenza degli algoritmi etica degli algoritmi sapete ne ha parlato anche il papa ad esempio recentemente di cose di questo tipo c'è un piccolo video in cui lui ha parlato di etica dell'intelligenza artificiale e essere consapevoli di queste cose avere una curiosità capire che tipo di problemi ci sono penso che questo già vi dà un passo avanti per affrontare concretamente le sfide del futuro e il futuro come ho cercato di dirvi cambierà velocemente adesso abbiamo avuto TikTok che è arrivato a 50 milioni di utenti in sei mesi probabilmente il prossimo social sarà molto più veloce noi non abbiamo tempo di capire quello che sta succedendo ok un'ultima domanda con questa richiesta sempre maggiori competenze specifiche non rischiamo di passare una vita a studiare senza poter applicare quello che impariamo perché è già superato no io credo che dobbiamo passare comunque la nostra vita a studiare io non ho mai smesso di studiare e credo che anche voi dovete entrare nell'ottima che non smetterete mai di studiare neanche quando finirete liceo neanche quando finirete l'università e studiare in senso positivo in senso di curiosità in senso di mantenersi aggiornate io credo che non vengono richieste soltanto le competenze specifiche come ho cercato di dirvi ma viene richiesta la capacità di saper affrontare problemi a saper risolvere i problemi a 360 gradi i problemi che abbiamo oggi sono molto più complicati di quelli che avevamo ieri domani saranno molto più complicati queste tecnologie digitali gli algoritmi hanno risolto molti problemi ma come ho cercato di dargli un po' la sensazione hanno anche creato dei problemi completamente nuovi che adesso stanno a risolvere quindi non spavertarti non è una richiesta di maggiori competenze specifiche è semplicemente una richiesta di competenze digitali che è bene che tutti abbiano anche se faranno un'altra professione e una curiosità una continua curiosità da mantenere sempre nella vita ok abbiamo finito il nostro tempo io vi ringrazio avete fatto delle domande veramente entusiasmanti e un grosso in bocca al lupo è stato un grande piacere e un grande onore stare qui con voi oggi grazie mille grazie a tutti